E ottenere la fine di ogni violenza con l'esercizio del dialogo, la forza del perdono, lui cui Cristo tuo figlio ci ha dato l'esempio e ci ha resi capaci con il suo immenso nome. Te lo chiediamo per l'intercessione di lei, Regina della pace, di San Michele Arcangelo e di tutti i santi, in particolare i patroni dell'Evra, per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen. Ascoltiamo una strofa dell'Ave Spina. 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 Grazie a tutti.